1.500 euro di anticipo per tutti, poi la restante parte degli stipendi arretrati spalmati in 5 o 8 rate a seconda dell'importo, cioè se superi o meno i 10.000 euro complessivi. È la proposta che la Santa Croce, ex concessionaria ed indicata come vincitrice del bando per l'utilizzo delle sorgenti Sant'Antonio Sponga di Canistro, ha formulato ai legali dei 39 ex lavoratori dello stabilimento marsicano per il pagamento delle spettanze retributive relative al periodo settembre 2016-febbraio 2017, così come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Avezzano emessa nelle scorse settimane. La società di imbottigliamento di acqua minerale dell'imprenditore molisano Camillo Colella in una nota sottolinea la volontà di porre le basi per una pacificazione e un nuovo inizio di rapporti sereni e produttivi. In forza delle risultanze del nuovo bando, spiega ancora Colella, si stanno programmando nuovi investimenti per lo stabilimento di Canistro, dove nei prossimi mesi riprenderà l'attività industriale. La Santa Croce si era opposta al pagamento delle spettanze del periodo settembre 2016-febbraio 2017. Quel periodo è stato caratterizzato dall'avvertenza aperta con i 75 lavoratori che furono poi licenziati e da quella con Regione Abruzzo e Comune di Canistro, legata alla gestione delle sorgenti, chiusa con revoca impugnata dalla Santa Croce, che ha poi innescato un maxicontenzioso tuttora in atto. La richiesta di dilazione del pagamento delle spettanze arretrate ai lavoratori, spiegano i legali di Santa Croce Roberto Fasciani e Giulio Mastroianni, è stata avanzata anche perché la sentenza è arrivata in un momento in cui l'emergenza Covid ha messo in difficoltà l'intero sistema produttivo, ma, rimarcano i due avvocati, c'è da considerare che la società ha deciso di non pagare quegli stipendi non per mancanza di volontà, ma perché il periodo si riferisce al parziale andamento o fermo della produzione a seguito dell'avvertenza con Regione Comune per la concessione.